Non si è candidato per una scelta personale arrivata dopo cinque anni a suo dire molto intensi e impegnativi, ma ha deciso di partecipare attivamente alla campagna elettorale, sostenendo il centro-sinistra e in particolare la lista civica popolare di Beatrice Lorenzin, sua collega di governo. Il ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti ha fatto tappa oggi a Piacenza, inevitabile parlare di un tema, quello della difesa del territorio, che non ha trovato molto spazio in questa accesa campagna elettorale. Noi ne abbiamo parlato, ne abbiamo parlato e soprattutto abbiamo portato i fatti e non le promesse. Questo penso faccia la differenza nella campagna elettorale. In questa terra, non solo a Piacenza, ma in tutta l'Emilia Romagna, abbiamo portato molte risorse, ma non ci siamo limitati solo a portarle. Siamo riusciti a trasformare quelle risorse prima in progetti e in alcuni casi anche in opere. E questa è un'anomalia a livello nazionale, perché il problema non è solo quello di trovare le risorse, ma anche di spenderle in tempi brevi, di spenderle bene. E qui in parte ci siamo riusciti. In cinque anni questo governo non ha mai fatto un condono. E se rimarremo al governo non faremo nessun condono. È proprio un'educazione sbagliata. Se noi vogliamo salvaguardare il nostro territorio, dobbiamo rispettare le regole in maniera durissima. Durissima. Perché qualsiasi cedimento abbiamo in questo senso, noi facciamo dei disastri per le generazioni future. E qui in parte ci siamo riusciti a trasformare le regole in maniera durissima.